Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di Natale. Natale che però sarà all'insegna di un po' di nuvole sull'Italia, correnti umidi atlantiche infatti portano degli annuvolamenti specialmente al centro nord, la pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese, il sud avrà condizioni meteo migliori. Lo vediamo anche dalla nuvolosità prevista sull'Italia, ecco nuvole abbastanza estese e compatte al centro nord, le nubi che vediamo arrivare anche al sud sono in realtà delle velature, quindi nelle regioni meridionali come vi dicevo ce la caveremo, al centro nord invece torna anche qualche goccia di pioggia, lo capiamo dalla previsione delle precipitazioni, effettivamente guardate queste macchie azzure, interessano principalmente l'Italia centrale, specie versante tirinico e lambiscono in nord Italia. Il sud per ora resta fuori dai giochi, quindi in definitiva ci attende un Natale all'insegna di parecchie nuvole al centro nord, anche se all'estremo nord ovest non mancheranno anche delle parziali schierite, qualche pioggia nell'Italia centrale, diciamo soprattutto versante tirinico, un po' di piogge però anche in Emilia Romagna, bassa Lombardia, Basso Veneto, Friuli, Venezia e Giulia. Al sud non mancano delle belle aperture, giusto la Sardegna e la Campania vedranno un po' di nuvole e qualche locale precipitazione, però attenzione anche Natale molto mite al centro sud, nelle regioni meridionali addirittura supereremo i 15 gradi, ci avvicineremo ai 20. Per sapere poi come sarà la situazione a Santo Stefano nei giorni successivi, scaricate l'app di Trebi Meteo e da parte mia di tutto lo staff di Trebi Meteo più calorosi auguri per uno splendido Natale.